Per esserci anche quest'anno di fronte al monumento a Giuseppe Garibaldi. Sul berretto di Garibaldi poco fa abbiamo visto un gabbiano. Il gabbiano è un simbolo di libertà. Qualche anno fa in Gran Loggia abbiamo fatto ascoltare una canzone nota di Giorgio Gaber dove parla del gabbiano che vola come simbolo di libertà. Questa libertà che noi vogliamo conquistare, riconquistare ogni giorno. Sono due anni che il monumento a Garibaldi è in condizioni critiche dopo il fulmine che si è abbattuto proprio nel 2018. Sembra essere stato messo in sicurezza il monumento ma certo sarebbe giusto per l'onore e gli onori che si devono dare a Garibaldi di completare il restauro. Così come questa parte di Roma, questa terrazza sulla capitale meriterebbe una maggiore considerazione da parte delle autorità pubbliche. Questo è un giardino della memoria, di una memoria condivisa e gli eroi che sono su questo viale meriterebbero davvero una maggiore considerazione. Ricorderete che dopo la caduta del fulmine sulla statua Giuseppe Garibaldi i gradoretti d'Italia si propose all'amministrazione comunale di contribuire al restauro del monumento comprendendo anche le difficoltà dell'amministrazione pubblica, le difficoltà finanziarie perché se si trascurano i nostri simboli si trascura la nostra storia ma si trascura anche il nostro futuro. Quindi noi come ogni anno ci siamo, abbiamo deposto la nostra corona, la corona del Grande Oriente d'Italia. Lo faremo sempre, lo faremo sempre perché non ci dimentichiamo del passato perché vogliamo guardare con grande ottimismo, coraggio, determinazione al futuro dell'Italia. Grazie a tutti per essere qui.